Siamo al sesto giorno di gara, si corre la cronometro che verosimilmente sarà decisiva, Champ de Pras, Champ de Pras. Su queste strade l'anno scorso è andato in scena uno spettacolo straordinario con sullo sfondo il parco del Montavic. Quest'anno ci sarà un'intera giornata dedicata a questa splendida località. Per scoprire queste strade abbiamo scelto le immagini del 2010, quando il vincitore del Giro, Pietro Ignatenko, ha interpretato questa salita esattamente come una cronoscalata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.